Salve, sono Urbano della San Corea e uno sbagliato di Fuscecchi. Oggi vi presento una nuova arrivata del nostro parco vetture usate. Si tratta di questo bel maggiolino dell'anno 2013, unico proprietario, una vettura che conosciamo perché è un nostro cliente abituale che ha più di una vettura e si servono da noi. Quindi una vettura molto molto bella e tutta da sfruttare, come vi farò vedere. E' dell'anno 2013, un 1.6 di cilindrata, turbodiesel, 105 cavalli, cambio manuale, allestimento, design. Andiamo adesso anche a vedere proprio lo stato d'uso della nostra auto. partendo dalla carrozzeria esterna. Intanto il colore bianco, bello, brillante, esternamente molto molto bello da vedere, con questa linea naturalmente moderna retro. Non ci sono graffi, non ci sono ammaccature, veramente uno spettacolo esternamente. Andiamo a vedere proprio le specifici, gli accessori, intanto farifan di nebbia, sensori di parcheggio anteriori e naturalmente posteriori. cerchi in lega da 16 pollici, con gomme estive, sempre ancora con un buon 50-60 per cento di parte strada e primi tutte da sfruttare. E adesso siamo all'interno della nostra vettura. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Intanto partiamo a vedere il cruscotto. Molto bello, anche questo vedete di verniciato, dello stesso colore della vettura esterno, quindi veramente una cosa particolare. Console centrale, cambio manuale a 5 marce, interruttore per inserire o disinserire i nostri sensori, climatizzatore automatico bizona, il nostro autoradio con il cd e tutti gli interruttori per le varie funzioni. volantino multifunzione, sempre con gli interruttori per avere il computer di bordo oppure le funzioni dell'autoradio. Passando al chilometraggio, 143.448 chilometri, tutti tagliandati, quindi sono anche chilometri certificati. E anche la tappezzeria interna è veramente molto bella, di questo bel tessuto nero. Non ci sono strappi nel tessuto, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette, questo è molto importante nelle vetture, perché il precedente proprietario non fumava, quindi è una vettura che, come il nostro solito, è stata lavata, igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti, come potete vedere, l'abitacolo risulta bello, pulito, profumato quando lo verrete a vedere e lo sentirete da soli e quindi un'accoglienza all'interno veramente eccellente. Bagagliaio veramente ampio, perché con il suo portellone che si apre tutto abbiamo anche parecchio parecchio spazio. Bello da vedere e pulito, perché ha avuto la stessa lavorazione di igienizzazione a vapore del nostro abitacolo. Mentre anche sotto il nostro pianalino abbiamo il ruotino di scorta, molto importante anche questo per la sicurezza nel viaggiare su strada. E andiamo a vedere anche il nostro valutone. Bello, pulito, con tutti i suoi componenti al loro posto, a partire dalle plastiche, tubine in gomma, spinettine elettriche. Tutto al loro posto perché la vettura ha sempre fatto, comunque, la sua manutenzione regolare. Dopodiché, prima di essere messa in vendita, viene sottoposto ad un accurato controllo, come? Seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia, come prescrive la legge, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno spiegati in serie. Sarite in macchina insieme a voi e andiamo anche a fare un giro di troppo su strada. E siamo all'interno della nostra auto. La cosa che per prima viene notata è proprio l'accoglienza dell'abitacolo. Veramente è impressionante, pulito, bello, spazioso. Ok, siamo partiti, mettiamoci la cintura, perché sennò abbiamo la spia che suona, e intanto partiamo a capire il funzionamento del pedale della frizione. Morbido, preciso nello stacco e quindi anche il cambio risulta veramente ottimo, nel senso che se la frizione funziona bene, anche il cambio funziona molto bene. Preciso negli innesti, senza nessun tipo di gioco. Assetto stradale eccellente, perché la vettura va veramente dritta su strada e non sentiamo assolutamente nessuna vibrazione sulle ruote. E la scatola di guida, in questi incroci, la sento precisa, leggera, senza nessun tipo di gioco. Quindi la guidabilità è veramente ottima. Anche la visibilità, è ottima, pur essendo una berlinetta, la posizione di guida è eccellente, il vetro ampio e si domina veramente la strada. Un'altra cosa, le sospensioni in questa strada con le buche sentiamo sì il loro lavoro, ma l'interno abitacolo è veramente silenzioso. La vettura è già stata controllata, completamente funzionante, quindi pronta per essere guidata. Un'altra cosa importante da dire, vi possiamo presentare la vettura anche in anteprima, cosa vuol dire? Con una videochiamata tramite whatsapp in diretta, ve la possiamo proprio presentare in tutti i suoi particolari, affinché quando deciderete di venire la vettura, la conoscete già. Preci ed eventuali difetti, perché non ci devono essere sorprese quando venite da noi in azienda. Passiamo alla meccanica, torno a dire 1.6 turbodiesel, 105 cavalli, meccanica ottima, silenziosa, anche brillante se si chiede la classica prestazione, quindi una vettura veramente anche scorrevole su strada, piacevole da guidare e anche, diciamocelo chiaramente, bella e spiritosa. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi su social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fuscecchia. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo naturalmente il prezzo del nostro punto vendita, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre, alla prossima vettura! Grazie!